La Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato oggi le pene per i due giovani rom che il 10 agosto del 2009 a Villa Rosa di Martinsicuro uccisero Antonio De Meo, uno studente 22 anni di Castel di Lama. In primo grado, con il rito abbreviato, i due rom di 15 e 17 anni erano stati condannati dal Tribunale dei Minori di L'Aquila ad otto anni e un mese di carcere perché ritenuti colpevoli di omicidio preterintenzionale e ricettazione. Respinta invece, come in primo grado, la richiesta della difesa di concessione ai due imputati del beneficio di messa in prova contro il quale si è estremamente battuta la famiglia De Meo. Quella notte, il giovane Antonio, finito il lavoro in un albergo, si recò in una paninoteca all'aperto a Villa Rosa per mangiare qualcosa. Vide tre ragazzi, tra cui un 14 anni non imputabile, e nacque una discussione sulla sua bicicletta sparita in precedenza. Il giovane fu aggredito e preso a pugni, l'ultimo dei quali gli fece sbattere la testa contro un furgone e volar via gli occhiali. L'ascolano, secondo un testimone, non reagì, raccolse gli occhiali ed ebbe appena il tempo di dire ma che fate, scherzate, che fu colpito ancora di rincorsa dal 17enne che gli sferrò il terzo terribile pugno in faccia. De Meo cadde a terra e morì a causa della vasta emorragia cerebrale e delle fratture al volto, conseguenza dei colpi ricevuti.